Avvio a rilento delle operazioni di voto ad Haiti. Il popolo più povero del continente americano è chiamato ad eleggere il proprio presidente e a rinnovare il Parlamento. In alcuni seggi si è iniziato a votare più tardi del previsto perché mancavano le etichette per sigillare le urne. La sfida è tra una ex first lady contro un popolare cantante. La settantenne Mirlane Manigà è una docente universitaria, moglie dell'ex presidente Leslie Manigà e ha studiato alla Sorbona di Parigi. Michelle Martigli, star della musica locale, ha trascorso una trentina d'anni in Florida e non ha esperienza politica. Secondo i suoi oppositori avrebbe finanziato negli anni 90 dei gruppi paramilitari dell'isola. Gli ultimi giorni di campagna elettorale sono stati caratterizzati dal ritorno, dopo sette anni di esilio, dell'ex presidente Aristide.